Dopo l'incontro che abbiamo fatto alla fraternità dei laici, sollecitato dal dottor Pierluigi Rossi di sollecitare gli operatori della piazza a vitalizzare il più possibile quest'ambiente meraviglioso, noi abbiamo deciso come fotoclub di organizzare per tutti i fine settimana in cui c'è la piazza antiguale di aprire a tubi la nostra sede, per cui abbiamo stabilito un calendario di mostre e quindi tutti i mesi di quest'anno saranno esposte delle mostre sociali dei soci oppure mostre di fotostoria del nostro archivio. Oggi si inaugura la prima mostra sociale dove rispondono 11 nostri soci con delle fotografie molto belle che meritano di essere viste e quindi invito tutti i cittadini a venire a visitarla insieme alla piazza antiguaria.